La mia ultima possibilità per eliminare Wolf era la pista di atterraggio del Tiergarten alle 18.45. Non avevo molto tempo. Fermare Wolf significava dirigersi dritto al cuore di Berlino. Con gran parte della città in rovina, l'unico luogo per il colpo era esattamente il mio punto di partenza. Dovevo arrivare alla... Dai, questa fosse la missione finale. Sì. Beh, sembrerebbe, ha fatto fuori V2 e gli manca l'inventore del V2, così poi gli americani lo possono copiare e far saltare in agli attori. Ah, magari salta fuori tipo... Gli alieni. Che stanno nascondendo il Tesseract e quindi devono... No, no, adesso... Tanto lo sanno tutti che i nazisti vivono sul grado scuro della Roma. Quanto è bello, ma nello Sky. L'hai visto? Ma non sono in realtà... No. Basta, smettiamo e adesso vai e te lo vedi. Cioè, stai scherzando? No, non ho mica visto tutto. No, è molto... Quello mi manca. È molto fuffo, è uno Sky. Che sono riusciti a rendere il film il dittatore di Charlie Ceprin, propaganda buona per il nazismo. Ci sei? Sai cosa farei io? Sesso? No. Cioè, non in questo momento. Cosa farei casino? Sanguinante! Che bello! Cioè, c'è chi non riega. Lo sto... Tenendo occupato con la pistola. Dov'è? Dov'è? Finato a destra, a sinistra. Da manche parte. Ah, l'ho visto, l'ho visto. Ok. No, ma come? Ma no! Oh, ma ne mi shitano, eh! Shitano! Aia, aia! Poco di soppressione con la cosetta schifosa! Aspetta che faccio che ho fuori quello. Fuggiamo giù! Sì, 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 sì. Qua è un po' non schifo, perché non abbiamo neanche dovuto insieme. Siamo che non andiamo dietro un calame. Ma dove vai? Ma dove vai? No! Caccola! Sì, ucciso mentre estraevo la pistola. Che bravo che sei. Cazzo, peggio di... E si è realizzato che puoi già provare a sparare, no? Come ho fatto a mancarlo? Ok, mi sono rimasto tipo un po' estrae per la pistola schifo. Due. Non ci voglio provare. È mortissimo. Ma chi è? Ma questi sono tipo... I miei cerchini della Russia proprio PPHS? Sì, no, è una roba allucinata. Vabbè? Poi te li si fa. No, ma ci deve essere un po' a fare PPHS? Ok, questo muro è un po' troppo alto. No. No, dove ho la camera. Ah, eccoli. Oh, ma gli Russia comunque... È vero, ne ammazzi uno e ne escono tre. Ok. Ok. dovrebbero essere tutti fatti fuori qui c'è un po' di gas via facciamo anche festa su qualche festa, dico ah, a reggio dici? eh stanno facendo poco oggi è mercoledì oggi è martedì allora cosa fa? vabbè sono i primi passi per la mobilitazione generale di insolazione non so per cosa facciamo ma come? sei morto? no no quasi però sono sceso e mi ha sparato allora ora grande capo achievement come? ora mi hanno visto eh? ah caro amato bella no però non ci sono anche me non ci sono non ci sono non ci sono non ci sono che non ci sono non ci sono non ci sono non ci sono niente ma è morto ma guarda come sono ben incastrato ma fuori cecchino fa fuori cecchino lì qua ha detto filo spinato ho il cecchino sulla finestra sinistra l'ho ucciso facciamo un pochino di c'è un altro carro armato c'è un altro carro armato c'è un altro carro armato non vedo nessuno in mezzo a ferro spirottinato è schifo ok non esiste più nooo ero al coperto no 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 eh qua è un po' un casino eh aspetti attego non vedo il carro merda il filo spinato scusa cecchino cecchino fatto questo anche guarda che sto in fin di vita eh attento che il carro spara ok 2x1 vehicle kill ah c'è qualcuno vicino ottimo ok è stata una stronzata questa dov'è dov'è ah altro cecchino fatto fuori c'è un cecco sull'edificio a destra la 26 copertura tu no lo vedo io non c'è più ok stanno sparando anche i 4 no perché la rampa da indistruttibile ma muori come a sprint spara la luce spara la luce perchè devo sparare la luce cosa ti ha fatto quella rampa da nebbè vabbè te lo ricordi se hai in 0-4 si si lo sai che quella rampa da aveva moglie e figli al mio gli ti frema la mano eh c'è Parkinson devi smettere con questo lavoro mi hai detto spostamento colpo alla testa anche se l'ho preso ovunque tranne che la testa oh cavolo ok questo l'ho preso bravissimo bravissimo ma chi è? oh quello là è mio ah ti chini anche eh non c'è il serbatoio sul carro armato però non c'è il simboletto rosso quindi forse non c'è gente che hanno sempre le munizioni per la pistola silenziata eh? hanno sempre le munizioni per la pistola silenziata ai cadaveri si ecco spara entro 20 nanosecondi a quest'auto quando devi ancora arrivare sul tetto da cui puoi sparare si si bisogna sparare tipo alle ruote dopo alle ruote bisogna sparare all'asserbatorio e poi al carburante mentre sta uscendo fuori dall'asserbatorio esatto esatto tutto come hai detto tu sarebbe bene nel prossimo transformers come scena cosa del genere perchè sono bloccato? dove salvo? perchè? moriremo tutti ah ce l'hai fatta da dove? si ma l'obiettivo dov'è? ah ecco da qua premi i tab e te lo fa vedere a cosa dovrei sparare però? a quello tipo così? a quello si hai fatto benissimo a secondo cuore che mira guarda dice come se l'avessi sparato io che bello si si esatto intanto io sono quello pelato ma una nuova guerra stava già iniziando la guerra fredda ed io ne ero il primo soldato bravo così si fa però c'ero io quello al parato perché si aspettavo abbiamo finito oh abbiamo finito sniperry 2 2 così di già? così presto? eh vedi continua non c'è peccato peccato ci sono le altre modalità volendo che sarebbero poi osservazione che non non mi ricordo che fa insomma uccisioni spariamo bomba andamento osservazione 1 e cecchino e l'atto è l'assaltatore ah io capì che ora abbiamo fatto? 22 e 34 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti